Amici telespettatori, buonasera. È una puntata di Polifemo diversa dalle altre, diversa dal solito. Infatti vogliamo racchiudere vari momenti della attività amministrativa dei comuni della provincia ionica e partiamo innanzitutto dal comune di Leporano. Dunque tante attività che denotano un fermento creativo, culturale da parte di questi comuni. Partiamo dal castello Muscettola di Leporano e partiamo dalla presentazione del libro del generale dei Carabinieri, Angelo Pellegrini, la sua fatica letteraria e noi gli uomini con Falcone. Dal titolo stesso si evince che viene ripercorsa da parte dell'autore un po' tutta la sua vita a fianco di Falcone, una vita spesa per la legalità, per combattere la mafia. Un momento particolare per la collettività leporanese e non solo perché sentire dalla viva voce dell'autore quei momenti bui, quei momenti difficili, rappresenta davvero un momento importante, una pietra miliare nella crescita verso la legalità di tutta la comunità ionica. Sindaco, le sue sensazioni, la sua emozione questa sera perché avere un contatto diretto con chi ha combattuto la mafia ad alti livelli, certamente è un momento di crescita per noi tutti, per la collettività leporanese e non solo. La serata che sta per iniziare, dedicata chiaramente alla presentazione del libro del generale Pellegrini, alla presenza del generale Pellegrini, non può farci che onore e piacere ed è un lustro per la nostra leporano. Noi abbiamo iniziato e abbiamo proseguito la nostra campagna elettorale avendo come simbolo nella nostra sezione elettorale le due figure, le punte di diamante in pratica della lotta alla mafia, cioè Falcone e Borsellino. Quindi non avrei immaginato di avere qui una persona validissima del pool che ha la presentazione del libro. Quindi per noi è importantissima questa presenza e l'accogliamo a braccio aperto e con il cuore veramente verso chi è contento, verso chi in effetti ha sempre combattuto la mafia e noi siamo a fianco di queste persone. Ecco, Sindaco, facciamo un po' la genesi, la ricostruzione di questo incontro. Come è nata l'idea, come si è sviluppata? Indubbiamente fissare un incontro, un appuntamento come quello odierno non è stato facile, ma la volontà, come dire, ha avuto la meglio su tutto? Beh, non è stato assolutamente facile, però grazie agli amici, grazie alle persone giuste siamo riusciti chiaramente a creare questo appuntamento per noi importantissimo e non è soltanto l'unico incontro, ma sarà il primo di una serie di incontri proprio legati alla lotta contro la mafia, contro le mafie. Vice Sindaco lotta, l'amministrazione comunale ha voluto dare rilievo a questo evento, all'incontro con l'autore per presentare appunto noi, gli uomini di Falcone. Un incontro con Angelo Pellegrini che ha una funzione innanzitutto educativa e di riflessione, una riflessione per difendere sempre la cultura della legalità e per combattere ogni forma di sopraffazione mafiosa. Sì, noi siamo orgogliosi questa sera di avere qui a Leporano Angelo Pellegrini diciamo che dopo aver avuto dei contatti con l'amico Semeraro abbiamo ritenuto di fare questa serata. Noi siamo per la legalità e Leporano è per la legalità e questo è una dimostrazione di quanto Leporano sia sempre presente sul territorio. Facevo riferimento alla funzione educativa, soprattutto verso i più giovani perché purtroppo oggi nella società odierna c'è la cultura dell'arricchimento facile attraverso l'illegalità e invece proprio questo è il male da combattere. Noi abbiamo basato proprio la nostra campagna elettorale sulla legalità ed è questo che noi vogliamo trasmettere ai nostri giovani, la legalità in tutti i sensi. Francesco Fusco, consigliere comunale di Leporano delegato alla cultura. La cultura è importante in questo caso, una cultura di legalità, una cultura di rispetto delle regole una cultura che deve combattere le infiltrazioni mafiose e le vessazioni mafiose in questo senso, in questa direzione, l'iniziativa di questa sera. Sicuramente e anche a prescindere da quello che è il ruolo all'interno dell'amministrazione più che altro da una persona nata negli anni 70 è che bene o male si è trovata a vivere questi momenti ad averne contezza immediata dai telegiornali. Ritengo che la cultura oggi debba anche promuovere soprattutto alle classi più giovani cioè alle nuove generazioni questo momento storico italiano momento difficile, assolutamente difficile perché non c'è solo la lotta alla mafia, non c'è solo la Sicilia c'era anche il terrorismo di matrice rossa e nera c'erano anche il periodo praticamente di sequestri di persona tanto in Calabria quanto all'anonima sarda è stato un periodo difficile io da bambino, perché all'epoca ero bambino, ragazzino li ho vissuti, li ho vissuti sulla mia pelle è giusto oggi che la legalità si trasmetta anche facendo conoscere questi periodi e gli uomini che hanno contrastato i problemi del nostro Stato della nostra società in quel periodo alle nuove generazioni Noi gli uomini di Falcone con Angelo Pellegrini beh, una fatica letteraria da cui trasuda per così dire un grande impegno morale il coronamento di tante battaglie vissute sul campo come è nata questa idea? L'idea è nata da qualche anno già pensavo che era opportuno raccontare specialmente ai giovani la storia d'Italia, di questa giovane Repubblica di una Repubblica a casi 70 anni di una storia travagliata di alcuni anni che hanno tradistinto addirittura un attacco allo Stato da parte della mafia e nel momento in cui poi, come dico io, scherzosamente sono rimasto disoccupato perché sono andato in pensione ho ritirato fuori le mie carte che sono stato sempre un gran raccoglitore di atti sono sempre tenuto aggiornato e continuo ancora a tenermi aggiornato e sono partito a scrivere un libro ho parlato con un mio vecchio amico calabrese un giovane giornalista il quale mi aveva proposto di scrivere un libro sulla Calabria perché io tra le altre cose ho prestato anche 12 anni di servizio in Calabria ma avendo già il materiale pronto e avendo questa idea già da qualche tempo di questa storia per non dimenticare soprattutto per non dimenticare coloro che hanno perso la vita per il solo fatto che difendevano le istituzioni italiane hanno perso la vita in silenzio e come dico nella premessa in silenzio sono caduti nell'oblio il ricordo del rapporto diretto tra lei e Falcone qualche aneddoto qualche momento particolare che ci possa meglio illuminare proprio sulla valenza dell'uomo Falcone al di là di qualche aneddoto che io riporto anche nel libro come quello dell'uso della penna stilografica del fatto che ogni tanto alternava alle sue sigarette un mezzo sigaro così come facevo io è stata una scuola di vita una scuola io dico che a Palermo con Falcone ho frequentato l'università dell'investigazione una scuola di vita perché Falcone era un uomo eccezionale di una grande dirittura morale di una grande capacità intellettuale capace di condensare ad esempio in tre righe un rapporto di quattro pagine un grande lavoratore a me spesso capitò visto che avevo le chiavi del bunkerino quello che si chiamava bunkerino messo nell'ammezzato del palazzo di giustizia di Palermo a me ogni tanto capitava di andare presto perché tra l'altro Falcone incaricava i nostri uomini di riprodurre molti documenti e quindi alle volte a noi mancava anche la carta e l'inchiostro per poterli riprodurre e allora mi aveva dato le chiavi del suo bunker e io entravo la mattina presto e qualche volta con i miei uomini lavoravamo per lui e molto spesso da lontano nel suo ufficio vedevo la luce accesa magari si trattava delle sei e mezza di mattina e trovavo Falcone e dottore anzi come lo chiamavo io giudice già a quest'ora lei è in ufficio ma io ho tanto lavoro e mi alza le cinque e alle sei e un quarto alle sei e mezza già sono al lavoro perché ho tanto lavoro da fare ha avvertito mai in Falcone il timore di morire di essere ucciso? ma Falcone non lo manifestava io ero certo che lui avesse questo timore però come facciamo tutti noi evitevamo di manifestarlo per non essere presi dalla paura e ricordo che una volta ci fu un rumore sospetto e Falcone quasi saltò dalla sedia certo era in tensione perché sapeva benissimo che era l'uomo più esposto di Palermo ecco si è parlato spesso di organi deviati dello Stato di istituzioni deviate la sua versione? ma la mia versione è questa io ritengo che molti certi omicidi lasciano anche dei dubbi circa appunto certe situazioni come dire cupe in cui organi dello Stato potrebbero aver tramato ma guardi al di là del fatto che poi le leggende metropolitane prendono vita e in ogni in ogni fatto anche il più chiaro si cerca sempre di scavare qualcosa che non esiste ovviamente non bisogna escludere che ci sia stata qualche complicità anche perché come dicevo prima molti appartenenti alle istituzioni chi in buona fede ma anche qualcuno in mala fede tentò di ostacolare questa guerra che si portava contro la mafia tentò di ostacolarla perché come dico sempre ai giovani quando si bussa alle porte della mafia poi la mafia viene a chiedere la restituzione del favore fatto e nel momento in cui si chiede la restituzione se non si è in grado di darla arriva la morte abbiamo come esempio Lima ad esempio che aveva la possibilità di raccogliere tanti voti sia dagli imprenditori legati alla mafia sia dai mafiossi stessi e poi alla fine quando non riuscì a bloccare il maxiprocesso venne ucciso per concludere il rapporto tra mafia e politica un rapporto tra mafia e politica esisteva e come dicevo prima esisteva perché ovviamente la politica avrà interesse avere i voti della mafia la mafia gestisce un grande serbatoio di voti attraverso le persone alle collegate le persone che magari anche per indifferenza però non si ribellano le sono vicine e sono pronte a dare una mano ad aiutare sempre in previsione dei possibili favori che ci possano essere quindi un contatto c'era noi continuiamo a vedere che purtroppo ancora esistono questi contatti molti probabilmente a minor livello di prima e spero che questi contatti terminino io dico sempre ai giovani voi avete in mano uno strumento eccezionale per cambiare le cose avete quella matita con cui da 18 anni in poi mettete una croce vicino a un nome scegliete i nomi delle persone per bene Roberto Benedetto magistrato stiamo ascoltando varie personalità vari soggetti impegnati nella difesa della legalità contro la mafia è opportuno anche ascoltare proprio il parere del magistrato come si sta combattendo oggi il fenomeno mafioso tanto impegno ma purtroppo i fenomeni tendono a reiterarsi a ripetersi evidentemente è un male difficile da sradicare sì diciamo che la legislazione attuale ha degli strumenti che magari negli anni 80 non c'erano per le persone come il generale Pellegrini che oggi è qui con noi l'introduzione del reato del 416 bis risale a quegli anni però adesso abbiamo una serie di strumenti penso alle misure di prevenzione al recente decreto legislativo in materia appunto di misure di prevenzione che consente anche la confisca di patrimoni ai soggetti anche solo indiziati di appartenere alle associazioni mafiose o figure di reati come il trasferimento di valori o di patrimoni la possibilità di confiscare in caso di condanna questi ingenti patrimoni alle mafie e ai soggetti che risultino colpevoli di questi reati gli strumenti ci sono la direzione investigativa antimafia la direzione nazionale antimafia per il coordinamento delle indagini quindi sotto questo aspetto mi sentirei di dire che si sono fatti dei passi in avanti il problema è un problema che forse educativo proprio pedagogico sicuramente un problema innanzitutto è un problema sociale cioè la mafia si sviluppa obiettivamente dove lo stato è più debole le prospettive per i giovani sono inferiori rispetto magari a quelle che si trovano altrove e quindi purtroppo fino a quando non ci sarà questo sviluppo sociale culturale economico temo che il fenomeno mafioso non potrà che reiterare le ha operato in Calabria la situazione del sud che proprio perché vive una situazione difficile particolarmente difficile sotto l'aspetto proprio sociale beh certe realtà sono purtroppo più facilmente aggredibili sicuramente è così purtroppo la Calabria la conosciamo purtroppo per il fenomeno dell'Andran che tra laddove invece io che sono vissuto lì ho potuto invece apprezzare bellezze straordinarie valori morali della gente l'ospitalità anche la cultura di personaggi diciamo poco noti ma che appunto mi hanno insegnato tanto il problema è che purtroppo quelle regioni vivono questo cancro forse inestirpabile Assessore Francesco Presicci una iniziativa che vuole avere una funzione innanzitutto pedagogica si cade anche in concomitanza dell'anniversario della strage di Capaci quindi assume un valore ancora più importante è una bella iniziativa che abbiamo voluto portare anche a Leporano con la presentazione del libro Noi Uomini di Falcone scritto dalla generale Pellegrini che questa sera ci onora della sua presenza sì una funzione pedagogica che secondo me andrebbe seguita per trasmettere questi valori a più gente possibile magari un'iniziativa da portare sistematicamente con continuità nelle scuole Abbiamo ascoltato stiamo ascoltando varie personalità vari relatori appunto con riferimento all'iniziativa di questa sera ma vogliamo ascoltare anche la società civile e abbiamo Fabrizio Carriere che è il presidente del club Alfisti in pattuglia beh già questo termine pattuglia sta a indicare come si vedono le macchine della polizia e dei carabinieri qui al nostro fianco un impegno anche attraverso altri settori quelli appunto altri uomini che vanno in campo per strada con gli automezzi desidero ringraziare innanzitutto l'amministrazione comunale per il gentile invito che ci ha rivolto a coronamento di questa manifestazione che è succeduta a quello che è stata la strage all'anniversario della strage di Capaci negli anni passati queste sono le testimonianze cui abbiamo un'alfetta carabinieri poi siamo venuti anche con una Giulietta polizia sono delle testimonianze un pezzo di storia di quello che era l'auto delle forze dell'ordine che a Capaci e anche durante gli anni a venire sono state a portare le forze dell'ordine a contrastare la mafia facevano da scorta facevano da auto civetta sono state auto impiegate nel passato e hanno segnato per tutti quanti noi un pezzo di storia noi siamo del club siamo una Ollus abbiamo avuto la fortuna di collezionare queste auto qui e portarle in giro nei raduni ai quali siamo invitati testimoniamo con queste auto ci è gradito testimoniare non soltanto l'importanza del marchio Alfa Romeo che contraddistingue tutte le auto delle forze dell'ordine di un tempo ma anche quel tipo di auto che portando sopra i bambini durante gli autoraduni venendo a giocare con le nostre auto accendendo i lampeggianti oppure le sirene sono così divertiti ecco noi abbiamo approfittato di questo connubio bambini con forze dell'ordine con le auto delle forze dell'ordine per cercare di essendo una olus riuscire a prendere qualcosa per poter testimoniare nel futuro quel che noi possiamo fare anche con queste auto beh un incontro davvero significativo per quel che riguarda la legalità per ricordare chi ha purtroppo immolato la propria esistenza in favore di un ideale ora ce ne andiamo in pubblicità e al rientro un'altra iniziativa relativa al comune di Leporano un incontro proprio per combattere il triste fenomeno del bullismo in un incontro un incontro per